La maggior parte delle persone sanno che le piante hanno bisogno di nutrimenti per crescere, anche se non sanno esattamente che cosa sono i nutrimenti e come agiscono. Vi mostreremo che cosa sono e come Canna, dopo anni di ricerca, è stata capace di sviluppare e produrre un booster metabolico che attualmente non ha paragoni nel mercato. Un prodotto che trasformerà le vostre piante come si potrebbe trasformare un utilitaria Ford in una macchina da Formula 1. I nutrimenti come l'azoto, il fosforo, il potassio, il calcio, il magnesio e l'ozolfo sono assorbiti dalle piante in quantità relativamente grandi. In aggiunta elementi in tracce come il ferro e lo zinco, nonostante siano essenziali, sono consumati in piccole quantità. Invece il carbonio, l'ossigeno e l'idrogeno, anche loro nutrienti sono estratti dall'ambiente. La stragrande maggioranza delle piante assorbe attraverso il sistema radicale i nutrienti necessari. La soluzione nutritiva può essere presente in diversi tipi di substrati come la torba, la fibra di coco e la lana di roccia. Questa soluzione nutritiva contiene in sé non solo tutti gli elementi necessari per la crescita e gli altri processi vitali, ma anche il più critico di tutti, l'acqua. È il sistema radicale delle piante che assorbe la maggior parte dei nutrienti minerali di cui la pianta ha bisogno. Anche nel caso in cui tutti i nutrimenti necessari alla pianta fossero disponibili, anche in ottime quantità, il processo di assorbimento di questi ultimi rimane sempre dipendente dallo stato di salute della pianta ed è sempre proporzionato al suo tasso metabolico. Questa è un'importante precisazione. Mentre l'acqua dei più piccoli degli ioni nutrienti come il potassio possono scivolare attraverso le membrane sane della cellula fino alla pianta, la maggior parte degli altri elementi non possono farlo. Infatti questi ultimi necessitano di un trasporto attivo, cioè lo ione prelevato e spostato in una cellula. Questo processo viene ripetuto di cellula in cellula fino a raggiungere il luogo in cui verrà utilizzato. Questo sistema di pompe e porte assomiglia molto ai mulini olandesi che aspirano l'acqua in eccesso nei campi ed attraverso i canali la riscaricano in mare. Questo dispendioso processo energetico richiede la maggior parte dell'energia prodotta dalle cellule della pianta. Questo è uno dei processi dove l'accelerazione del metabolismo della pianta gioca un ruolo fondamentale. In aggiunta ad un regime di fertilizzazione bilanciato, Canna Booster aiuta ad ottimizzare la performance della pianta e gli permette di esprimere al massimo il suo potenziale. Solo dopo anni di ricerca abbiamo ottenuto Boost Accelerator che agisce a tutti i livelli sulla pianta e fa sì che sia disponibile maggiore energia con un conseguente aumento di produzione di metaboliti. Canna Boost è composto da tante singole sostanze come oligo e polisaccaridi, amminoacidi, proteine ed altri componenti, ma il suo ingrediente più attivo sono le oligosaccarine. Quando una determinata molecola si attacca ad un oligosaccaride si trasforma in un oligosaccarina portando con sé una funzione innescante. Questa funzione innescante può inoltre agire a vari livelli, attivare geni o altre tipologie di processi. Per certi versi è simile a vaccinare la pianta contro l'influenza, proprio come il corpo umano che riconoscendo un corpo estraneo innesca una risposta genetica creando un sistema protettivo, migliorando così il metabolismo del corpo. Alla stessa maniera Canna Booster innesca il medesimo tipo di risposta. Canna Booster non è una bevanda dolciastra energizzante, piena di stimolanti, non c'è zucchero nel prodotto. La linea dei prodotti Canna viene fatta fermentare per lunghi periodi in grandi vasche dove differenti tipi di microorganismi lavorano nelle giuste condizioni per produrre il miglior prodotto possibile. Proviamo a semplificare tutto il discorso. Useremo come un esempio il processo di fabbricazione di un oggetto qualunque. Ogni cellula di una pianta potrebbe essere paragonata ad una fabbrica. Alcune cellule producono i mattoni di costruzione di base, i carboidrati, che tra l'altro servono anche come energia per fare i nostri prodotti. Queste cellule di produzione sarebbero disposte lungo le linee di una centrale elettrica. Tutte le varie centrali elettriche prenderebbero l'energia dal sole e le materie prime attraverso l'apparato radicale e combinandoli con aria ed acqua genererebbero dei blocchi. Questi materiali sarebbero poi trasportati a tutte le altre cellule. Qui i blocchi sarebbero convertiti in singole sottostazioni di energia che alimenterebbero le linee di montaggio. Queste a loro volta trasformerebbero i blocchi rimanenti in materiale specifico necessario alla cellula per vivere, per rilasciare più potenze e per produrre più cellule. Le oligosaccarine rendono possibili tassi di produzione di energia e di materia più elevato sia a livello delle centrali elettriche che dei centri di produzione. Per di più controllano anche il sistema di interruzione delle forniture e in caso di necessità spostano rapidamente la risposta del sistema immunitario dove ce n'è bisogno per mantenere tutte le funzioni sempre al meglio. Per maggiori informazioni visitate canna-it.com